Dimostrazione operativa dell'unità cinofila della Polizia di Stato oggi nell'istituto scolastico Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio. Docenti e alunni hanno ascoltato le spiegazioni dei poliziotti sui loro compiti e nello specifico quelli delle unità cinofile. L'iniziativa rientra nelle attività programmate e nell'ambito del progetto percorsi di legalità, progetto curriculare trasversale coordinato da Giuseppe Maria Spera con lo scopo di sensibilizzare ed avvicinare gli adolescenti alle istituzioni e diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle leggi. Questa è un'ottima occasione per trasmettere ai ragazzi della nostra scuola quali sono i veri valori della società, quindi anche far capire ai nostri ragazzi che determinate cose come devono essere trattate, il fatto di stare lontani dalla droga perché in ogni caso non ci sono a tutela della gente proprio queste unità particolari che hanno la possibilità di vigilare su tutti noi. L'evento, il progetto rientra in un ventaglio di attività ben più ampio laddove cerchiamo di potenziare nei nostri alunni quelle che sono le competenze trasversali che partano proprio dalla formazione dei futuri cittadini di domani. Conoscere le istituzioni è la base per sapere e conoscere il proprio territorio e perché no diventarne parte attiva. Probabilmente oggi per la fascia d'età cui noi rivolgiamo l'intervento in modo inconsapevole, un domani da cittadini formati e distruiti. Il commissario capo Laura Romano È un contributo che diamo sempre molto volentieri perché la convinzione della nostra questura, del commissariato di Gela, per cui ringrazio anche il mio dirigente, è appunto quella di entrare nelle scuole per consentire ai bambini, agli uomini e alle donne del futuro di sviluppare un confronto con la vita che è proprio l'aspetto più importante degli istituti scolastici, della scuola in generale. Il nostro contributo è quello di fornire una esemplificazione concreta di quella che è la nostra attività volta a prevenire il crimine.